Siamo di nuovo a Roma nella sede di Unione Italiana Vini, per la nostra rubrica L'esperto risponde, come sempre con me il Dottor Rossi, responsabile dell'ufficio giuridico della Confederazione e parliamo oggi di classificazione dei vini. Dottor Rossi, il consumatore si trova a dover capire quale vino sta acquistando, qual è la classificazione dei vini? Il consumatore quando si trova di fronte a una bottiglia di vino deve riuscire a individuare quale prodotto sta acquistando e in questo di aiuto naturalmente deve consultare l'etichetta. L'etichetta riporta una serie di indicazioni che gli consentiranno di capire quale prodotto sta acquistando. La classificazione dei vini è ben definita da norme comunitarie e nazionali che prevedono una serie di sottocategorie. In primo luogo abbiamo i vini a denominazione di origine protetta, cosiddetti DOP, che sono dei vini di fascia più elevata che hanno la caratteristica di essere prodotti al 100% all'interno di un territorio di vinificazione stabilito dal relativo disciplinare di produzione. Per quanto riguarda la seconda categoria siamo in presenza dei vini di creazione geografica protetta. In questo caso il prodotto proviene per l'85% dalla zona in cui viene vinificato quel vino come viene stabilito dallo stesso disciplinare di produzione. una terza suddivisione di categorie è quella dei vini varietali, che sono dei vini che possono riportare in etichetta il nome di una varietà di vite e possono essere sia essi fermi, frizzanti o spumanti con un numero di varietà consentite differenti a secondo delle diverse categorie che ho appena enunciato e in questo caso non sono legati a nessuna zona di produzione. Quindi potrete trovare un merlot, uno chardonnay, un sauvignon che sono semplicemente indicati con il nome di vitigno. Unica limitazione definita dalla normativa è che almeno l'85% del prodotto contenuto in quella bottiglia derivi dalla varietà che è indicata in etichetta, quindi avremo la certezza che quel vino contiene almeno l'85% di una delle varietà che ho appena ricordato. Altra categoria di minor pregio è quella dei vini generici, dove l'indicazione in etichetta è semplicemente vino, quindi quando ci troveremo in presenza di una bottiglia che riporta solo l'indicazione di vino, avremo solamente un'indicazione di prodotto senza alcun riferimento alla varietà con cui è stato prodotto, alla zona da cui proviene, all'annata e quindi diciamo che è un vino che può essere anche frutto di tagli con prodotti di diverse zone e non ha una sua identità precisa in etichetta. Naturalmente questa classificazione non è un giudizio di qualità in modo automatico perché ci sono aziende che pur nella categoria dei vini generici producono degli ottimi prodotti. Certamente potrebbe essere comunque un elemento di valutazione molto importante per il consumatore per capire quale prodotto lui sta acquistando. Quali categorie comprendono le DOP? Ecco, io ho parlato genericamente di DOP, ma in realtà a livello nazionale italiano abbiamo due grosse categorie che sono delle categorie tradizionali, che sono i vini a denominazione di origine controllata e garantita e i vini a denominazione di origine controllata. Queste due categorie sono entrambe categorie che danno buone garanzie di qualità dei prodotti, in modo particolare la prima, la cosiddetta DOCG, dove essendoci questo termine garantita proprio vuole a indicare che è un prodotto con dei parametri qualitativi più elevati rispetto a una DOC. Infatti una DOC può diventare DOCG solo se il disciplinare di produzione di questa denominazione che passa al gradino superiore ha dei parametri qualitativi più elevati e i prodotti che fanno richiesta di questo passaggio vengono valutati anche da una commissione di assaggio che ha un parametro base di punteggio assai elevato e in questo caso c'è la garanzia anche di un prodotto che dal punto di vista organolettico sia pregiato. Come può il consumatore a questo punto riconoscere ad esempio un vino frizzante da un vino fermo? Il consumatore naturalmente in questo caso, come già ricordato, dovrà guardare sull'etichetta e questo può essere semplice nel caso di prodotti che non hanno una DOC o IGP. Nel caso invece di prodotti che hanno una DOC o IGP la normativa consente in presenza del nome della DOC o IGP di non indicare la categoria di prodotto. Quindi potremmo essere di fronte a un prodotto che è frizzante o spumante senza avere l'indicazione vino spumante o vino frizzante sull'etichetta. Naturalmente ci sono anche altri elementi che ci consentono di comprendere che prodotto stiamo acquistando. Ad esempio nel caso dei vini spumanti vi è un obbligo di mettere come sistema di chiusura un tappo a fungo e una gabbietta con capsulone. Quindi è chiaro che dal punto di vista visivo quando si incontra una confezione di questo genere, anche se sull'etichetta non fosse indicata la categoria vino spumante, siamo in presenza di un vino spumante. Può essere che nel caso di un prodotto che abbia comunque una capsula e un tappo a fungo ci sia anche un vino frizzante. In questo caso la capsula è più piccola, il tappo a fungo è comunque un tappo a fungo simile a quello dell'espumante, però in questo caso vi è l'obbligo di indicare in etichetta vino frizzante perché proprio il consumatore non deve essere tratto in inganno da questo abbigliaggio della bottiglia, ma ha un'informazione sull'etichetta in questo caso che gli dice che è un vino frizzante e deve essere alta almeno mezzo centimetro questa dicitura. Per cui è sicuramente facilmente visibile. Esistono anche dei vini frizzanti non confezionati in tappo a fungo, in questo caso di solito hanno dei tappi o tenuti con uno spago, come nel caso del prosecco frizzante o con altre chiusure comunque che devono tener conto della pressione che hanno questi prodotti e quindi il consumatore comunque è in grado di riconoscerli. Qual è quindi il grado di controllo che il consumatore può aspettarsi a seconda delle diverse denominazioni? Il consumatore naturalmente nello scegliere i prodotti pensa di ottenere come prodotto da consumare un prodotto che è stato sottoposto a un serio controllo in modo da essere garantito sulla qualità del prodotto stesso che acquista. Proprio questo tipo di classificazione che ho appena ricordato prevede una serie di controlli decrescenti partendo dai controlli più elevati fatti sui vini a DOP, meno qualificati i controlli sui vini a IGT, ancora un po' meno dettagliati i controlli sui vini varietali e limitati a un controllo generale di genuità e di corrispondenza normativa i vini generici. In particolare i vini DOP che sono quelli che subiscono dei controlli più elevati hanno una serie di controlli sancita per legge, in quanto esistono degli organismi terzi che vanno a effettuare i controlli partendo dall'origine delle uve fino al vino finito che viene sottoposto ad un'analisi chimico-fisica e ad un'analisi organolettica in modo sistematico, quindi tutte le partite di quei vini passano da questo controllo di tipo analitico e organolettico e quindi il consumatore ha la massima garanzia. Nel caso dei vini GP questi controlli invece non vengono in maniera sistematica, ma sono esercitati a campione su un numero molto limitato di vini e quindi chiaramente negli anni i controlli interessano tutti i produttori, ma i controlli sono di livello inferiore. Nel caso dei vini varietali esistono dei controlli soprattutto dal punto di vista burocratico per verificare che l'azienda abbia effettivamente in cantina quel tipo di prodotto e che quel tipo di prodotto venga effettivamente imbottigliato nei quantitativi posseduti. Sui vini generici, come già dicevo prima, invece i controlli sono quelli di tipo tradizionale a sorpresa esercitati dai organismi di controlli nelle cantine per verificare la corrispondenza di genuità soprattutto e di correttezza nell'operare rispetto alla normativa vitivinicola. Perfetto, si chiude qui questo approfondimento. Ringraziamo il Dottor Rossi dell'Ufficio Giuridico di Unione Italiana Vini. Cari amici di One Channel, potete scrivere le vostre curiosità e domande sul mondo del vino utilizzando la nostra casella di posta redazione chioccio alla onechannel.it.